Ecco qua, la scena con i suoceri è a posto. Ciao, sono Daniele e questo è Zurigo Italiano. Si avvicinano le vacanze, manca un paio di mesi alle vacanze estive qui in Svizzera, qui a Zurigo, a metà luglio, a metà agosto. E come siete organizzati? Qui avevamo già un volo per la Spagna, mia moglie è spagnola, quindi pensavamo di andare in Andalusia con un volo Swiss, affettare a Malaga una macchina, stare tra l'altro un paio di giorni a Malaga in un hotel carino, che ci eravamo trovati per andare a trovare la famiglia e i miei suoceri in un paesino vicino a Almeria. Suonava perfettamente, è una vacanza rilassante, adesso è tutto un po' poco chiaro. Che cosa fare? Ovviamente i governi adesso spingono, in particolare quelli basati sul turismo, come sono quelli italiano e spagnolo, spingono molto sul turismo straniero che ritorni già da quest'estate, vogliamo sostenere la nostra economia, dicono, ovviamente, ma si traduce questo in più sicurezza? C'è una sicurezza a luglio che ci aspetta maggiore? Per ora siamo in attesa e molto dubbiosi, devo dire la verità. Bisogna mantenere precauzioni, a me piacerebbe mantenere il volo e riuscire a trovare un modo per ugualmente passare questa vacanza se sarà possibile. Per ora teniamo sotto controllo le statistiche che vengono trasmesse da questi paesi, statistiche come vedete già tante volte sui giornali, cerchiamo di capire qual è l'andamento, soprattutto in quelle regioni, e come si comportano le compagnie aeree in quanto a misure negli aeroporti, eccetera, inizialmente. Abbiamo tanto tempo perché la Swiss è molto flessibile, ovviamente è molto sotto forte pressione economica riguardo al calo di acquisto di voli in generale e sta cercando di essere più attraente possibile sul mercato. In questo momento sta cercando di dare la maggior flessibilità possibile. Ci è stato detto più volte che voli possiamo cambiarli anche dopo la data del volo stesso. e si tratta di una cosa limitata soltanto a un certo periodo, ovviamente, il periodo della pandemia e bisogna vedere poi appunto che voli si trovano in cambio, se c'è una differenza da pagare e così via. Però è già qualcosa direi, la possibilità che ci dà, che è quello che spera la Swiss ovviamente, di aspettare e vedere un po' come si sviluppano le cose. Quindi aspetteremo fino a inizio luglio per vedere se a metà luglio davvero andremo. Per fortuna anche l'albergo si potrebbe cancellare. La macchina la vedo già più difficile, potremo provare a vedere che cosa si può fare lì. Questo per dire che però se partiamo, e io spero davvero di partire, superando le paure diciamo, come partire. Ancora non ho fatto un decalogo, magari tra un mesetto ci rivediamo con un decalogo preciso, ma ho già delle linee guida ovviamente, no? E sono sempre quelle basate sulla distanza, eccetera. Cercherò di essere breve. Disinfettante sempre con me. Sia durante il viaggio, sia proprio anche quando sono in giro. Non si sa mai se c'è stato un momento in cui ho dovuto toccare qualcosa, prendere qualcosa e voglio essere, non una fontana, non un sapone, voglio avere un disinfettante come me. Ovviamente, durante il viaggio ho maggior ragione, se si prende una macchina affittata come faremo? Sono sicuro che la casa dalla quale affittiamo, la casa di noleggio dalla quale affittiamo, saranno bravissimi e disinfetteranno. Disinfetteranno per bene, però io vado anche con un panno a disinfettare perché ci tengo, perché è una cosa che voglio fare personalmente, ovviamente. A parte il disinfettante, avrò sempre una mascherina con me, perché non me la porterò sempre, faranno 40 gradi d'estate se andiamo lì, possibilmente in Andalusia, quindi non è che posso stare sempre una mascherina quando sto passeggiando sul lungomare, ma se mi ritrovo in un luogo in cui mi sento a disagio, c'è troppa gente, magari dentro un bar che non ritengo abbastanza a livello di igiene che considero, cercherò magari di non andarci soprattutto, ma se mi ritrovo in una situazione in cui mi sento a disagio e ritengo che sto troppo vicino ad altri, mi posso mettere una mascherina. Porterò anche per mio figlio durante il viaggio qualcosa, pensavo, devo ancora verificare come, ditemi anche le vostre idee nei commenti. una mascherina o degli occhiali, e vi dico perché gli occhiali, gli occhiali da sole magari, che potrebbe essere anche una cosa divertente per lui, non tanto per la trasmissione del virus con gli altri, che con un bambino, diciamo, mi interessa più che respiri bene, ma durante la permanenza nell'aeroporto e sull'aereo in parte, ma soprattutto nell'aeroporto, se il bambino va a toccare e si mette le mani in faccia, per quanto io possa stare attento, ci saranno sempre queste situazioni, quindi avere una mascherina, avere degli occhiali, minimizza la possibilità sua di mettersi addosso la schifezza che trova in giro. Un'altra cosa che vorrei citare per concludere, magari preparare un paio di frasi cortesi in spagnolo, visto che andrò in Spagna, se no avere comunque la possibilità di praticarle proprio, per essere cortesi nel modo di dirle, ma fermi, quando ci troviamo in situazioni in cui si sentiamo a disagio, perché la vicinanza di una persona, magari anche amica, la riteniamo troppo stretta, per quanto ci riguarda, e allora la possibilità di chiedere per favore, di parlare magari a un passo di distanza, in più, comunque portando rispetto per le persone a cui vogliamo bene, anche per conoscenti e anche per passanti, comunicando però quello che per noi è importante per l'igiene nostro e della nostra famiglia. Fatemi sapere che mi pensate ai commenti. Ciao, alla prossima!